ciao spider-man ti prego lascia che mi presenti io sono otto octavius icarus non esiste vero no martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto icarus era una scusa per attirarti in posizione cosa significa vuoi uno strambo a cavius è stata una ventata di aria fresca sì quell'uomo quell'uomo il vero genio mj va tutto bene che succede è solo il traffico ascolta lì punta all'antidoto dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui d'accordo esamina tutti i permessi edifici le tracce del laboratorio le troverò grandioso ok mj ci sentiamo è andata male l'ho spiancato passiamo al piano b che meraviglia il gioco di squadra non trovi puoi ottenere l'impossibile come uccidere spider-man mi scaldi il cuore electro sei maturato in prigione non è vero l'ho scelta nelle otturazioni fai la giravolta falla un'altra volta dai un bacio a... no lascia perdere a vuoto max come sempre fai la giravolta fai la giravolta fai la giravolta E' stordito, è la mia occasione! Devo usare la tela sul trasformatore vicino a lui. V, tocca a te! Oh, Adriano! Sono io, Spider-Man! Vediamolo vai urlando! Nessuno capisce le mie battute! Stasera chiuderemo i conti, insetta! Oh, coca! Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca! Mi spezza il cuore! Oh, coca! sentita. Questa l'hai sentita? Prima devo fargli abbassare la guardia. Spiderman! Dispiezzo i due! L'hai capito! Hai capito l'abbattuto! Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero, preferivo quando aggivate da soli! Il gioco di squadra può fare miracoli! Non trovi? Il vigore della gioventù è la saggezza dell'età, un vero idillio! Come l'acqua e l'olio, certo! Diavolo! Scusami! Dai la fine volta! Palla un'altra volta! Dai un bacio a... No, lascia perdere! No, lascia tutta l'emorturazione! No, lascia tutta l'emorturazione! Grazie a tutti. 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 Devo riprendere fiato. Pensaci tu, Electro. No problem, V. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ha nessuna possibilità. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.